Sono Francesco e oggi ci troviamo dentro la magnifica chiesa di Pierigrotta. Questo posto nasce, pensate, da un intreccio tra una storia e una leggenda. La leggenda che ci narra la fede di marinai napoletani, commercianti di corallo, che naufragando fecero voto al loro quadro di bordo e il loro onore scolpirono lungo questa roccia all'incirca 232 statue. Finalmente questo posto da circa sette anni è diventato un presidio di legalità. Oggi c'è una cooperativa che lo gestisce, quindi degli ingressi regolamentati. Mentre in precedenza era diventato un luogo gestito abusivamente, oggi invece noi diamo valore alla cultura e alla calabria.